Dunque è un piacere presentarvi il prossimo relatore, il professor Cavaliere, che come vi dicevo ci dirà che noi non siamo soli, anche quando siamo soli, chi è Giovannotti? Ok ragazzi, ho uno dei prodotti di Bill Gates, questo è un iPhone, c'è una cosa che si chiama Timer Start, 19 minuti. Vi chiedo un po' di attenzione, non allungo, e ci sono due concetti che riprenderò dagli speaker precedenti. Uno, vi ricordo la lecture di Pozzan, c'era una frase nella scelta dei colori, era gut feeling, che vuol dire praticamente quello che mi sento nello stomaco. Citando musica, vorrei citar Battiato, il centro di gravità permanente, proverò a convincervi che il vostro centro di gravità permanente è qui. Va bene? Quindi, quello di cui parliamo sostanzialmente è una storia che è iniziata molto molto tempo fa. Voi sapete, spero, cosa sono virus, batteri e funghi e quali sono le differenze, quindi non vado lì, però dovete sapere che sono veramente diversi e hanno un punto a comune, sono piccoli. I batteri hanno delle dimensioni di un micron, i funghi circa 10 micron, questo vuol dire che noi abbiamo cominciato a conoscerli quando abbiamo inventato i microscopi. Stiamo parlando del Settecento. Cominciano a diventare in auge veramente importanti quando uno scienziato italiano che si chiama Lazzaro Spallanzani dimostra che la generazione spontanea è una balla che la Chiesa ci aveva dato per lungo tempo, niente contro la Chiesa, ma il punto è semplice che Spallanzani dimostra che le malattie possono forse avere un'origine microbica. Quello che fa veramente la differenza è Pasteur. Pasteur lavora su un microorganismo fondamentale per molti di voi, a chi piace la birra nella stanza. La birra è fatta da un microorganismo che si chiama Saccharomyces cerevisiae, il lievito di birra. Louis Pasteur è uno scienziato che dimostra che praticamente lavorando, migliorando Saccharomyces cerevisiae si migliora la produzione di birra e vino. Siamo nell'Ottocento, ma il salto grande che viene fatto dopo lo fa un altro scienziato, uno scienziato tedesco che si chiama Koch, che stabilisce, sono chiamati i postulati di Koch, che dimostra sostanzialmente che la polmonite è legata in molti casi a un batterio, quindi associa malattie importantissime a batteri. E questa è la visione che probabilmente vi è andato quando eravate piccolini. Chi di voi non si è beccato una tonsillite o un problema di un'infiammazione praticamente o una piccola influenza dicendo è batterica? Bene, no, l'influenza è virale, ma molte delle sue complicanze possono essere batteri. Quindi il lavoro di Koch e poi quello di Fleming che ha scoperto gli antibiotici impostano lo schema mentale con cui noi pensiamo batteri cattivi, antibiotici, guerra contro i batteri, i batteri sono patogeni. Oggi vi propongo un cambio di paradigma perché tecniche molto recenti che sono state utilizzate per sequenziare i geni e i genomi umani le stiamo applicando da circa una decina d'anni per sequenziare le comunità dei batteri, virus e funghi che portiamo addosso. Questa scoperta ci ha fatto passare da una visione dei funghi su una capsula di petri, che è questa qua, a una capsula di petri informatica, che è quella che è prodotta dall'elaborazione dei dati di questi sequenziatori a alta efficienza che sequenziano tutto il DNA che è presente in un campione. Di cose? Di feci, di pelle, di mare, di acqua e ci fanno scoprire un'altra parte del mondo, l'altra parte di noi. Ci fanno capire che noi non siamo fatti semplicemente di cellule di mammifero, ma siamo fatti anche di cellule di batteri. Quindi non so quanti di voi si svegliano la mattina e si chiedono chi sono, ma io qui vi propongo una bellissima risposta. Sicuramente noi non siamo solo noi stessi, cioè se pensiamo in termini di abbondanza di cellule e di informazioni, sappiamo per certo che ogni cellula eucariotica, cioè della nostra pelle, del nostro cervello, del nostro cuore, ci sono dieci cellule batteriche che ci portiamo addosso. Quando pensiamo in termini di informazione, informazione per voi che siete cresciuti nell'era digitale e praticamente siete dei digitali nativi, dovrebbe essere semplice concepire l'informazione come byte, va bene? Ci accorgiamo che in termini di informazione pensata come geni, i batteri ne portano molta molta di più di quanto ne portano praticamente le cellule che fanno il nostro organismo. Quindi, quando vi svegliate la mattina e pensate a voi sulla base dell'uomo vitruviano, che è quello disegnato da Leonardo da Vinci, potete cominciare a darvi la risposta che noi siamo degli ologenomi che camminano. Non siamo solo fatti delle nostre cellule, ma delle cellule di tutti i microrganismi che portiamo addosso e che ci abitano. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire praticamente che cambiano tante cose. Vi siete chiesti quanto di voi dipende da vostra madre e quanto dipende da vostro padre? Pozzan sicuramente è fortemente convinto che il mitocondrio, avendo origine materna, dà uno zinzinino in più. Va bene? In realtà c'è un grosso pezzo in più che porta la mamma ed è il microbiota che vostra madre vi passa quando praticamente voi nascete. Ci sono bellissimi lavori che dimostrano che quando si nasce da parto naturale si ha una biodiversità microbica molto superiore a quella che quando si nasce con un parto cesareo. Quindi ringraziate la mamma la mattina sicuramente per la parte del vostro genoma che è il metagenoma che vi portate addosso. Cosa fa questo microbiota? Che cosa ci dà? Esempi semplici. Abbiamo visto la vitamina A. La vitamina K che è prodotta da dei batteri che si chiamano coliformi. Voi non siete in grado di assorbirla. Se non ci sono dei batteri che ve la rendono biodisponibile praticamente la vitamina K non c'è verso che possiate assumerla in modo semplice. Dovete farvi delle punture nel sederino a alta probabilità. Quindi molto meglio avere dei bravi batteri che producono vitamina K e molte altre cose. Ma anche la digestione di grande parte di alimenti dipende dai microorganismi che ci portiamo addosso. Non solo. L'immunità. Noi ci ammaliamo o non ci ammaliamo e riconosciamo le cellule del nostro corpo come buone mentre quelle dei patogeni cattive perché abbiamo un sistema che si chiama sistema immune. Il sistema immune è allenato ed educato dai microorganismi che ci portiamo addosso. Detto questo, detto questo, gli studi che stanno uscendo in questi anni ci stanno mostrando che il microbiota e queste comunità microbiche non sono statiche ma sono dinamiche, cambiano durante la nostra vita, ci accompagnano durante il nostro invecchiamento e il loro deterioramento con l'età cambia il modo con cui invecchiamo. Quindi nella ricerca per la fontana dell'eterna giovinezza che voi avete in questo momento ma che forse fra qualche anno cominciare a atticchettare meno bene, sicuramente lavorare sui microorganismi giusti è una delle direzioni in cui andare. C'è un'altra cosa interessantissima. Alcune malattie che sono le malattie infiammatorie croniche, quelle che si derivano dallo sbilanciamento tra il corretto riconoscimento delle cellule del self, cioè di quelle che sono io, e di quelle del fuori, stanno esplodendo negli ultimi anni. Questo grafico qua vi dimostra come dal 1950 al 2000 c'è una crescita esponenziale di malattie quali la sclerosi multipla, il morbo di Crohn, il diabete di tipo primo e l'asma. Questo è un segnale fortissimo e gravissimo perché ci fa capire che noi non moriamo più di cancro, non moriamo più di infezioni perché abbiamo gli antibiotici, ma cominciamo a vivere malissimo man mano che diventiamo adulti e poi vecchi a causa di malattie infiammatorie. Uno scienziato che si chiama David Strahan negli anni 50 fece un'osservazione interessantissima che è stata confermata e che sta diventando sempre più vera. Cioè fin dagli anni 50 Strahan nota che molti tumori dell'intestine, molte malattie praticamente autoimmuni, sono praticamente assenti nei paesi che venivano chiamati all'epoca in via di sviluppo, va bene? Ossia in Africa. Ad oggi questo quadro è ancora più estremo. L'Africa e nei paesi in cui la globalizzazione non è arrivata, è arrivata molto tardi, hanno tassi di Crohn e di colito il cerosa che sono a questa altezza. Questa viene chiamata l'ipotesi dell'igiene. Perché accade questo? Qual è la grande differenza? Una delle grandi differenze è l'uso degli antibiotici. Coloro di voi che stanno parlando in questo momento nel BEX farebbero bene a stare zitti perché probabilmente l'uso degli antibiotici ha delle ragioni per cui sono qui in questa stanza oggi. Gli antibiotici sono stati estremamente positivi per la nostra crescita e il nostro sviluppo. Però gli antibiotici pongono ad oggi un rischio pesantissimo che è quello che danneggiano i microorganismi benefici che ci possiamo addosso. Cioè è un problema di spettro. Gli antibiotici, molti antibiotici sono a largo spettro, quindi colpiscono non solo gli organismi patogeni ma anche quelli benefici. Va bene? Quindi una delle linee di ricerca moderne di oggi è la ricerca di antibiotici che siano a spettro molto più limitate e colpiscono soltanto i microorganismi cattivi. Comunque un uso eccessivo di antibiotici sta diffondendo antibiotico resistenze e sta causando anche un altro problema. Se io vi chiedo ad esempio voi là in cima sulla destra che state guardando l'iPhone, secondo voi le resistenze agli antibiotici derivano principalmente, derivano principalmente, guardami negli occhi, derivano principalmente dall'utilizzo di antibiotici all'ospedale o dell'utilizzo degli antibiotici ad esempio dove si producono maiali o vacche? La risposta che devi sapere è che non è nell'ospedale, ma moltissime delle antibiotiche resistenze derivano dall'utilizzo di antibiotici nella produzione di vacche e maiali in modo moderno. Va bene? Queste resistenze agli antibiotici poi vengono praticamente trasferite sull'uomo e ce le portiamo noi tutti i giorni addosso. Quindi la riduzione dell'utilizzo di pesticidi, di chimica e di antibiotici nelle produzioni è una delle linee chiave perché queste pratiche stanno portando all'interruzione di questo ciclo, cioè al ciclo del movimento naturale e benefico di microrganismi dagli alimenti e dall'ambiente all'uomo. Questo rischia di innestare un meccanismo molto pericoloso perché se noi rompiamo questo ciclo il nostro sistema immunitario non è più allenato in modo appropriato e riconosce come potenziali patogeni anche microrganismi benefici. Questo è un bellissimo lavoro che è uscito recentemente che può rispondere alla domanda di come mai i bambini amano mangiare i sassi. I bambini normalmente hanno una vera passione per i sassi. Io ho un figlio di 10 anni e io stesso quando ero bambino cercavo la terra. Noi bambini mangiano normalmente terra ma ne mangiano alcuni grammi al giorno. Le madri di solito fanno di tutto per fermare il bambino da mangiare terra o sassi ma sbagliano e questo esperimento lo dimostra perché i sassi sono una sorgente meravigliosa di microbioti ambientali. Allora questi scienziati Sidor Fedal nel 2014 quindi molto recentemente hanno pubblicato un lavoro molto bello. Hanno preso topi e li hanno trattati con antibiotici ma li hanno fatti nascere praticamente senza microrganismi. Quindi li hanno colonizzati con i batteri dell'intestino del pesce, zebrafish, dell'intestino delle termiti e con i batteri del suolo. Quindi hanno preso un altro topo che nasceva sterile senza batteri e l'hanno messo nella stessa gabbia prima con i topi che avevano il microbiota dello zebrafish, quindi quelli della termite e quindi quelli del suolo. Il risultato è stato questo. Se noi andiamo a vedere la capacità di colonizzazione troviamo che il microbiota che colonizza in modo più efficace è quello dei batteri del suolo. Quando andiamo a vedere i marcatori di infiammazione troviamo che i topi colonizzati con il microbiota del suolo sono quelli più sani. Quindi questo è un grande paradigma, probabilmente non in eccesso, ma quello che fanno i bambini è un qualcosa che probabilmente è evoluto da milioni di anni come un modo naturale per riportare dei batteri importanti per il microbiota dell'intestino quando questi non ci sono. Questo cosa vuol dire? Questa è una diapositiva importantissima. Dovete sapere che io ho lavorato per negli ultimi sei anni in un centro di ricerca in Trentino, un centro di ricerca europeo che è posto esattamente al confine fra l'Alto Adige e il Trentino, nel Tirolo. Dovete sapere che c'è una vecchia pratica in Trentino che è quella che le madri portavano i bambini nelle stalle appena nati. Il Tirolo tedesco e l'Alto Adige ha un tasso di crone malattie autoimmuni pari a quello dell'Africa, cioè 10 o 100 volte inferiore rispetto a quello praticamente nelle zone urbanizzate. La ragione è la teoria dell'igiene, cioè quello che accade sostanzialmente è che il sistema immunitario, dovete pensarlo come un computer, quando il bambino nasce il disco rigido non ha i programmi e non ha i dati. Per funzionare un computer ha bisogno di software, ossia ha bisogno dei programmi e ha bisogno di dati che allenano il software. Quindi il sistema immunitario dovete pensarlo come il software antivirus, come quel software che difende il computer dalle infezioni. Ma se quel software non vede batteri, cioè non vede software buono, informazione positiva e non vede i virus, perché nessuno gli dice che quello è un virus, quel software non funziona. Ma la cosa peggiore non è che quel software vi esponga un'infezione, ma è che quel software cominci a attaccare i file del sistema che sono essenziali per il funzionamento del computer. Questa è la descrizione per chi è nato digitale di quello che succede con una malattia autoimmune. Con una malattia autoimmune il software antivirus attacca il sistema che serve per poter usare Word, poter usare Internet, quindi il vostro computer non funziona più. Quello che fanno i batteri dell'ambiente, quindi nella ipotesi dell'igiene, è esattamente di fornire questi dati. Questi dati, questi batteri, influenzano il sistema, cambiano il codice, cambiano noi stessi, come? Con meccanismi epigenetici, modulando lo sviluppo e modulando lo sviluppo non solo del sistema immune, ma anche d'organogenesi. Quindi che fanno i batteri buoni? I batteri buoni ci insegnano a modulare l'uso del nostro repertoire d'attacco, cioè fanno sì che quando io vedo un batterio cattivo, prima parto con le cellule del sistema immunitario di difesa, quindi stimolo l'infiammazione, macrofagi, cellule T, ma poi utilizzo delle cellule che non sono le cellule T di attacco, TH1 e TH17, ma delle cellule che si chiamano T regolatorie, che spengono l'infiammazione. Non si sa spengere l'infiammazione, non si impara a spengere l'infiammazione se non si è visto sia batteri buoni che batteri pericolosi. Quindi proverò andando avanti, mi rimane ancora qualche minuto spero, a raccontarvi un piccolo pezzo della fine di questa storia. E questo piccolo pezzo della fine di questa storia è quello che vi dice sostanzialmente di come quello che mangiate sia importante per risettare il microbiota intestinale. Innanzitutto, l'evoluzione è fondamentale. L'abbiamo visto nei recenti slides, ma non possiamo capire quello che fanno i nostri microrganismi e come sono importanti per la nostra salute se non li studiamo in una prospettiva evolutiva. Quindi questo è Darwin, probabilmente noi dobbiamo reinventare il darwinismo. C'è questo articolo bellissimo che sostanzialmente dice che si può capire il funzionamento dell'olo bionte soltanto se si guarda insieme l'effetto della selezione sul genoma dell'ospite e su quello dei microrganismi che l'ospite porta. Questo è un esempio molto bello che vi fa vedere come in Giappone, sapete chi di voi mangia sushi? Il sushi è avvolto in una cosa nera, cioè un riso con dentro roba variabile, può essere pesce, può essere vegetale o altro, avvolto in una struttura nera che è fatta di un'alga. Quell'alga è l'alga nori, va bene? Noi occidentali, nel nostro intestino, scusate, ho già passato il tempo ma vi chiedo altri 5 minuti, 3 minuti brevissimi perché mi avete interrotto, praticamente l'alga nori, che è l'alga praticamente che fa avvolgere il sushi, può essere digerita soltanto da degli batteri che hanno degli enzimi che sono delle agarasi, sono contenuti in un cluster, un gruppo di geni praticamente che è portato da un microrganismo che si trova nell'oceano ma che non è mai stato isolato nell'intestino nostro o di quello dell'uomo. Questo lavoro pubblicato sul Nature descrive come attraverso un meccanismo di ingegneria genetica naturale, mi riaggancia a quanto fatto vedere da Cervone, l'evoluzione in Giappone dell'uso di mangiare sushi in cui è presente l'alga nori probabilmente ha guidato un trasferimento genico orizzontale di un operone, cioè di tutti i geni per la degradazione del nori, va bene? Dal batterio oceanico a un batterio presente nell'intestino dei giapponesi. Quindi i giapponesi hanno dei batteri normalmente presenti anche in noi che portano un gruppo di geni che ha origine oceanica e che gli serve per rendere mangiabile, utilizzabile come sorgente di energia un'alga. Questo è un esempio bellissimo di ingegneria genetica naturale, va bene? Mediata sostanzialmente nel microbiota. Grazie. Quindi, devo smettere? È successo qualcosa? Allora, vi chiedo un solo minuto e chiudo rapidamente. C'è stato un altro lavoro che ha visto praticamente il mio laboratorio protagonista, ma ve lo faccio vedere veramente in un minuto, è che è attualmente uno dei dieci lavori più citati in metagenomica. Questo è stato pubblicato su PNAS, è uno dei più download della rivista PNAS, è uno dei più citati, viene citato tutte le volte che si cita il rapporto tra dieta e microorganismi. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati in Africa, siamo andati in Africa in un villaggio che assomigliava moltissimo ai villaggi dell'uomo quando si è passati sostanzialmente dal passaggio fra cacciatori e raccoglitori a sedentari. Le comunità sedentari, le comunità praticamente che non usavano, non neanche più cacciatori e raccoglitori, ma coltivavano, automaticamente cominciavano a essere esposti alle infezioni. Perché? Perché quando un cacciatore e raccoglitore si becca un'infezione batterica, probabilmente muore e la selezione si ferma sulla sua famiglia, a cui passa eventualmente i batteri o i virus, ma in un villaggio di 20, 30, 50, 100 anime, l'arrivo di un batterio molto pericoloso, per esempio quello della peste, poteva essere estremamente pericoloso. Quindi noi ci siamo chiesti, ci sono dei meccanismi naturali di protezione, va bene, che i batteri utilizzano perché in questi villaggi il ciclo è chiuso, si mangia e si vive su quello che si produce e non si usa antibiotici, però alcuni di questi villaggi che vivono in equilibrio erano dei villaggi in cui non c'erano malattie, non c'erano malattie infiammatorie croniche, e la gente sostanzialmente arrivava a un'unità decente di vita con un ciclo chiuso. Abbiamo utilizzato un approccio di metagenomica sequenziando il gene marcatore dell'evoluzione dei batteri dell'intestino dei bambini africani e l'abbiamo confrontato con dei bambini fiorentini, belli in salute, e con dei bambini occidentali. Per farvela breve abbiamo trovato due cose. Primo, il microbiota dei bambini occidentali in un lavoro di metanalisi, cioè di confronto dati, era simile a quello di dei topi obesi. Mentre il microbiota, perché era ricco di firmicutes, il microbiota dei bambini africani era simile a quello dei topi magri, perché era ricco di bacterioidetes. Non solo, abbiamo visto che il microbiota dei bambini africani favoriva la produzione di molecole anti-infiammatorie naturali, quali gli acidi short-chain fatty acids, degli acidi corti praticamente, che sono molecole che vengono utilizzate nella terapia del morbo di Crohn o nella terapia delle malattie infiammatorie. Quindi questo cosa voleva dire? Che i bambini africani, quando digerivano la fibra nella parte bassa del loro intestino, liberavano molecole anti-infiammatorie, era come se fossero in terapia anti-infiammatoria permanente. Ci siamo chiesti che succede quando i bambini africani si muovono dal villaggio a praticamente alla città, questa è la città in Burkina Faso a cui abbiamo fatto i campioni, e che succede quando si muovono sostanzialmente verso le città occidentali. Un processo che viene naturalmente, perché oggi abbiamo molti migranti che vengono dall'Africa nelle nostre città. Ebbene, la brutta notizia è che quasi subito si perde il microbiota che fa short chain fatty acids, lo si perde già qui, quando si passa dal villaggio alla città, ma non solo. In queste transizioni si diventa sempre più occidentali. Questo è il microbiota dei bambini africani dei villaggi naturali, questo è il microbiota degli occidentali, questi sono dei microbioti di migranti che si spostano praticamente dall'Africa all'Occidente. Quindi voglio concludere con un segno semplice, anche un segno di speranza. È fondamentale considerare il ruolo dei nostri microbioti tradizionali nel mantenerci in salute. Dobbiamo inserire fra i rischi della globalizzazione e della sterilizzazione degli alimenti anche quello di perdere una biodiversità in microorganismi fondamentale per sta bene. E questi studi e questa conoscenza può essere raggiunta solo attraverso un approccio interdisciplinare che unisce bioinformatica, microbiologia, fisiologia, la biologia tutta, con un approccio di sistema globale. Ed è quello che spero che questa talk farà nelle vostre menti di portarvi nei prossimi anni a affrontare gli studi di biologia approcciandolo con un approccio che non vede soltanto un pezzettino ma che guarda il funzionamento dell'insieme. Grazie e arrivederci. Grazie.